Grande spazio come l'inevitabile ad ESMO 20-24 al carcinoma del polmone. Quali sono le novità, quali sono gli stimoli emersi da questo dibattito scientifico? Ne parliamo con Marcello Tiseo, membro del direttivo nazionale Aium e responsabile dell'oncologia medica di Parma. Marcello, quali novità emerse? Allora, quest'anno l'ESMO non è stato scoppiettante per quanto riguarda la patologia polmonare come quello dell'anno scorso dove sono stati presentati i lavori practice changing, ma abbiamo alcuni dati comunque interessanti. Riguardano sia la malattia polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato che in stadio precoce e anche qualche segnalazione per quanto riguarda il microcitoma. Allora direi in generale per quanto riguarda la patologia polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato abbiamo nuovi dati per quanto riguarda molecole che sono nuovi inibitori del checkpoint immunitario quindi in particolar modo antitigite e antilag 3, quindi dati di fase 2 che potrebbero poi portare a studi interessanti di fase 3. Abbiamo informazioni per quanto riguarda nell'ambito della malattia precoce sempre di più del ruolo del DNA tumorale circolante perché abbiamo sicuramente nuove strategie terapeutiche con l'immunoterapia ma abbiamo sempre più necessità di identificare quelli che sono i potenziali pazienti responsivi nella quale deintensificare o aumentare la terapia quindi il DNA tumorale circolante è sicuramente un elemento rilevante. In ultimo per quanto riguarda sempre la malattia in stadio precoce abbiamo visto un dato negativo per quanto riguarda l'immunoterapia in adiuvante con lo studio BR31 il che potrebbe ancora una volta portare potenziale invece il concetto della strategia perioperatoria. In ultimo per quanto riguarda il microcitoma abbiamo avuto un aggiornamento dei dati per quanto riguarda lo studio Adriatic quindi che sono stati poi contestualmente pubblicati su New England in contemporanea la presentazione in particolar modo questi dati sottolineano come il vantaggio dell'immunoterapia dopo chemioradioterapia sia un vantaggio indipendentemente dal tipo di radioterapia eseguito dalla presenza o meno di un precedente trattamento profilattico cerebrale e indipendentemente dal platino utilizzato quindi una conferma del ruolo dell'immunoterapia anche nel microcitoma in malattia limitata dopo chemioradioterapia. Grazie 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 Grazie